Allora Chef, di che carne si tratta? Sono un manzo Ereford, che è un manzo irlandese, un prato macinato fresco, non è roba più gelata. Poi abbiamo della chiamina, sto facendo il video per il nostro... Teresina ora ci metterà un po' di sale qua e là. Teresina so che è molto brava mettere il sale. Va bene così. Vai sì tipo salto bene. Dai Dele sì, vai. Anche io. Una forchetta ci, ho una forchetta. Vai a prendere una forchetta. Fai prendere una forchetta ci. Ma così a casa. Basta che lo distribuisci un po' su tutti, no? Sì, però io non mi figlio di te che giri queste cose così. E dai che ti succederà al massimo? Muori. Ma infatti. La smetti? Sì, dai vieni. Devo cucinare. Comincia a levare i bull, dai.